Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono qui in sala e visto che mi hanno andato un pochino vi voglio mostrare il gioco che ho fatto che ho creato questo è molto semplice io l'ho fatto con un filo di scotch perchè non c'era un filo visto che li hanno già stato sbocati nella nuova casa però potete usare un qualunque filo poi lo attaccate poi prendete un foglio di carta e ci ho creato una pallina ma la pallina in sé per sé è così da piccoli abbiamo provato tutti a farla e non ci sta quindi prendete lo scotch vabbè io uso questo qui perchè è grossissimo comunque perchè l'ho trovato lì poi quindi prendete la pallina e ci ha attaccato un pezzettino di scotch poi ha rotolato tutto appiccicate tutto insieme attaccate il filo alla pallina e poi se avete magari qualche appiglio nel soffitto magari una non so una cosa si non so delle tende per tenere le tende ci attaccate questa io adesso ce l'ho corta voi fate la più lunga ce l'ho corta perchè ho già questo appiglio qui però voi poi dipende dall'altezza dell'appiglio e praticamente dopo prendete una scarpa o qualcos'altro però che sia così diciamo e cominciate è molto scogativo è molto scogativo diciamo è divertente ci sono stilacci che vi devo mettere a posto se no mi dobbiamo fastidio e cominciate che cavolo stilacci scusate ragazzi però mamma mia ovviamente dopo si disfaceranno e salteranno un po' i gracchi non so vuota ah alti sotto brutto stupido aiata ah prenditi questo ah una caccia però ah 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 scusate ah 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 prenditi e poi questo ah 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 mamma mia per fortuna che c'è un piano dietro ah 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 quasi quasi ma non mi arrivava in faccia mamma mia sta bellini ah 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 ti giuro ragazzi ti giuro prima ho tirato qui c'è l'anella praticamente guardate ha fatto così prima visto che era giù non così ha fatto così poi si ha pigliata qui così così tipo ed è entrata dentro l'anella e io ho detto ah comunque ditemi nei commenti se questo gioco vi è piaciuto e soprattutto fatelo a casa mi raccomando se no questo video non serve a niente mettete like e iscrivetevi ovviamente condividete il canale e il video con tutti i vostri amici e ciao alla prossima qui 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 qui